Musica Nome e cognome Silvia Mauri Materie insegnate Leppere, storia, geografia, opzionale di teatro pomeriggiano Obbi e passioni Il teatro, la critica teatrale, scrivere e viaggiare Segni particolari Ex-aluto Il suo motto? Zenone diceva, abbiamo due orecchie e una bocca per ascoltare il doppio e parlare la metà Nome e cognome Cesare B. Di Notto Materie insegnate Tecnologia Obbi e passioni Lo studio della Sacra Scrittura e la progettazione architettonica Segni particolari? Sempre a disposizione Il tuo motto? Essere profumo di Cristo Nome e cognome Hi, my name's Glynis, Glynis Davis Materie insegnata And I teach English And I teach English I'm the mother tongue English teacher Obbi e passioni Or hobbies I love traveling Seeing new countries And I love eating And I love eating Segni particolari Oh, that I don't know I'm short and fat And speak English Il tuo motto? Speak, speak Use it or lose it Use it or lose it Usala o perdila Grazie You're welcome Bye bye Nome e cognome Chiamo Ronchetti Samuela Materie insegnate Lettere alle medie al liceo Hobby e passioni La letteratura E le mie bimbe Segni particolari Sono un'ex alunna Del cardinal Ferrari Il tuo motto? Il mio motto è pluralia tantum La professoressa Ronchetti Non avrà voluto per caso Intenerirci con le sue bimbe Ci ha detto che ha un alibi Per la sera del furto Ma va confermato Convocherò il marito Ciao Non perderti gli altri interrogatori Che saranno online Nei prossimi giorni Condividi con i tuoi amici E gli amici dei tuoi amici Condividi con il gruppo dello sport Con quello di catechismo E con quello delle vacanze E ricorda Il nostro motto è Con la dolcezza conquisterete i cuori